Il primo maggio fate il Consiglio, lo slogan è «Al lavoro per il mondo del lavoro», ok? Così siamo tutti collaborativi. Per consentire, dice Banca d'Italia, dal primo di gennaio, dal primo di giugno, di avere 15 euro in più in busta paga, che io non banalizzo in termini di taglio al conto... Mi scusi, mi scusi, onorevole Enrichetti, devo sospendere la seduta. Scusate. Grazie.